Scuole chiuse a Chieti oggi e lunedì. Si tornerà sui banchi martedì prossimo per consentire nel frattempo il tracciamento dei contagi. E' quanto deciso ieri dal sindaco Ferrara a seguito di una riunione con il prefetto, il manager della ASL, i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico provinciale. La chiusura delle scuole non è stata indicata da problemi di tipo sanitario ed epidemiologico. Abbiamo raggiunto in questi ultimi giorni il plateau dei contagi. Su 1600-1500 positivi al giorno nelle settimane precedenti siamo arrivati a 800-850, quindi la metà. Si spera che questo sia l'inizio della discesa. L'azienda sanitaria locale è in ritardo con il tracciamento dei contagi covid anche a causa dell'elevato numero di positività dovute ai test antigenici. Entro lunedì si provvederà a rimettere ordine tra i dati e a contattare chi dovrebbe essere in quarantena, così da riaprire le scuole con maggiori certezze. I numeri della pandemia però, secondo il sindaco, non sono allarmanti e non lo erano neppure quando si trattava di decidere se posticipare l'inizio delle lezioni dopo le vacanze di Natale. Dallo screening sugli studenti infatti è emerso un tasso di positività al di sotto del 3%, percentuale non sufficiente a chiudere le scuole. Nell'ultima settimana gli studenti della provincia teatina contagiati sono stati in totale 2.132. Sono moderatamente ottimista, ha detto Ferrara. Innanzitutto in questo momento stiamo osservando un chiaro oggettivo rallentamento della corsa. E la seconda cosa è che tutte le persone che io ho avuto modo di contattare, di essere vicino colpiti dal virus ma vaccinati, ma vaccinati praticamente hanno trascorso la patologia come una normale influenza. Quindi io sono ottimista perché stiamo in un modo o nell'altro raggiungendo quella che è definita, è stata sempre definita immunità di gregge.